Appuntamento rimandato per il primo successo in campionato dei Comes Boys Taranto nel massimo campionato di basket in Carrozzina. Sabato scorso al Palamazzola il KPO contro la Dynamo Lab Sassari per 59-32, nonostante una buona prova difensiva. Il pensiero del presidente capitano Rosso Blu, Domenico Latagliata. La Dynamo Lab è uno squadrone, tanto è vero che la troviamo al primo posto del nostro girone. È stata una bella partita, ho detto anche nelle passate interviste che la squadra sta crescendo con l'arrivo di Luciano, un innesto molto importante e lo vede il risultato dell'andata 80-23. Stasera abbiamo mantenuto nei primi due quarti poi c'è stato un calo nel rientro e comunque la squadra si è vista, ha girato a palla e manca ancora quel piccolo grip che piano piano secondo me raggiungeremo. Vedere questi ragazzi in Carrozzina con tante difficoltà, arrivare a fare uno sport diciamo estremo come il basket in Carrozzina, vedere una Serie A qui a Taranto da tanti anni non si vedeva. Secondo me bisogna avere più, non lo so, io stasera ho visto poca gente, pochissima gente, tanti sono venuti addirittura dal mio paese, da Palagiano. L'invito che faccio a tutti non è un rimprovero ma è un invito che faccio a tutti di venirci a vedere e avremo un sesto uomo in campo perché a noi serve anche questo, serve che Taranto ci segue, serve che Taranto stia vicino alla nostra squadra e poi piano piano arriveranno anche i risultati.